Dopo la programmazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Polizia del Comune, oggi arriva una vera e propria manifestazione qui sotto a Palazzo del Pincio. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni attuali sono che questa ditta da quando si è inserita, quindi dal 1 agosto, ha sempre creato problemi di pagamento degli stipendi, pagamento degli assegni familiari e ci giunge voce che non abbiano neanche mai versato i contributi, cosa ancora da verificare, però le voci ufficiose sono abbastanza certe. A tutt'oggi, oltre che i nostri stipendi sono bassissimi perché prendiamo 600 euro mensili, sia per quanto riguarda chi svolge il lavoro da hostess, chi fa le pulizie, gli stipendi sono per tutti uguali, quindi comunque siamo abbastanza uniti e compatti in questa lotta, ci hanno levato anche la dignità, perché a dicembre ci hanno pagato gli stipendi di novembre, il 24 dicembre, quindi abbiamo passato il Natale senza stipendio, la tredicesima ce l'hanno dato il 28, quindi a questo punto veramente pensiamo e speriamo che qualcuno ci dia ascolto, in questo caso grazie anche a voi che siete intervenuti a darci comunque voce e speriamo che qualcuno proceda e di non diventare strumento politico come penso che possa accadere, visto che siamo già in campagna elettorale. La signora che ci dovrebbe rappresentare, la signora Diomira, ha dato conferma ai sindacati che il 13 erano stati fatti i bonifici, però a tutt'oggi ancora non c'è sanno i soldi. Nessuno ha ricevuto questi soldi. Soltanto un paio? Due. Due, solo due. Adesso però, a quest'ora, quindi non è vero che il 13 sono stati fatti i bonifici. Quindi è una manifestazione che comunque intendete portare avanti? Intendiamo portare avanti, anche sperando che i sindacati questa volta ci diano un apporto più forte. C'è gente che dopo 7 mesi ancora gli assegni familiari deve prendere? Io non l'ho mai preso, da quando ho entrato alla ditta non ho mai preso assegni familiari.